Mister, che dire? Una partita epica, mi pare. Al di là, un po' per la nostra prestazione, secondo me, forse la più bella, con quasi 20 tiri fra in porta e fuori, che è il record del suttiro in questa stagione. Poi, in virtù anche delle vicissitudini, gli infortuni, qualche giocatore a sciaccato, la munizione di Bellardinelli contro un arbitraggio imbarazzante, nonostante tutto avete ancora cavato fuori i tre punti. Non ho più oggettivi di dirgli che sono bravi, sono fantastici, nelle difficoltà si uniscono. Più oggi giocano anche a calcio. Adesso, al di là che l'allenatore non è buono allenare e farle giocare, oggi abbiamo fatto un primo tempo, secondo me, di una qualità estrema. Poteva finire 2-3-0. Arriviamo sempre al tiro con una semplicità estrema, con l'1-2. con le sovrapposizioni dei terzini. Poi prendi il rigore a minuto dalla fine del primo tempo, ti può crollare il mondo addosso. Invece siamo messi lì, nell'intervallo ho detto, alzate i ritmi e vedrete che prima o poi ritroveremo il gol. Infatti poi l'abbiamo trovato, è vero? Su Pallinativa abbiamo avuto altre situazioni. Questa è una vittoria che ci dà, non dico la certezza matematica di salvezza, però tagliamo il traguardo con la testa, il corpo lo porteremo più avanti e ci dà la possibilità di vivere una favola che tutto il popolo del Sud Tirol, se si dice così, merita, perché anche oggi c'era una bella atmosfera, c'è un'unione di intenti. Vogliamo finire la favola bene, poi quello che verrà verrà, però vogliamo essere protagonisti della favola. I giocatori se lo meritano, la società se lo merita, un po' anch'io me lo merito perché con tutti quelli che mi dicono che butto la palla in avanti, a destra e a sinistra, penso che oggi mi hanno dimostrato di giocare anche un po' a calcio. Nell'ottica di questa favola avete cinque punti sulla quinta in classifica che iniziano a essere un margine significativo, poi a dieci giornate alla fine magari non vorrà dire niente, però è significativo, dieci sulla zona playoff e più che altro in queste ultime due partite, secondo me, di questa infrasettimanale che era una fase critica, mi pare che la squadra abbia dimostrato di essere consapevole della propria forza di giocare per vincere a tutti i costi. Vi svelo un segreto, io ho detto ai ragazzi, se ci fossero più turni infrasettimanali, noi alla terza, nessuno ci sta dietro. Perché molte volte faccio dei danni in allenamento e gli faccio fare più fatica che delle partite, quindi. Loro cominciano a capire che hanno delle qualità morali, e questo io l'ho fatto capire prima, ma hanno delle qualità anche calcistiche, importanti, sanno leggere la partita. Io quando sono arrivato qui tutti dicevano tight, non so se l'altro, tight è un giocatore che in Serie B di questo livello ce n'è pochi. Sto parlando di aver preso un tight ma per dire tutti, perché De Colt, Curto, Zaro. E quindi quando cominciano a capire che sono una squadra importante, che si possono sempre unire nelle difficoltà, questa squadra che quando c'è difficoltà si uniscono e tirano fuori una grande prestazione. Quando ci sentiamo un po' bravi, come è successo con il Moda, ma quella ho detto era la colpa mia, no, però questo nel segnale intorno non è mai successo e quindi proseguiamo su questa strada. Ministro, buonasera, complimenti innanzitutto. Niente, sorpresi Perugia, stai sorprendendo tutti, sorprende anche noi con l'inserimento di Mazzocchi da subito. Allora, te lo spiego perché, te lo spiego. Non voglio farvi pretati che non voglio prendervi in giro, è lungi da me fare questo, ma era così fino a ieri sera. Poi, rivedendo, al di là che ha fatto gol e la prestazione lascia stare, che no, ma non è quello, è che se noi, vedi, adesso oggi abbiamo perso Celli per un po', io avevo paura anche di perdere Cissè, perché Cissè tre partite in una settimana, non l'aveva mai fatta, quindi sentiva qualcosa ma non mi diceva, c'è il dolore o non c'è il dolore, quindi io finché ho deciso per salvaguardare il ragazzo, quindi Mazzocchi, al di là della grande prestazione, era fresco, quindi ho detto Mazzocchi e giochi, non voglio prendermi in giro, guardate, non voglio prendermi in giro, perché se volete i fogli non ce li ho dietro, ma fino a ieri sera Cissè e Odogo era la cosa. Poi, siccome ha fatto la rifinitura bene e lui, finita la rifinitura, visto che si toccava, siccome è un ragazzo giovane avevo paura di perderlo, ecco questo. La seconda domanda è l'ultima, la sostituzione di Berardinei, è stata determinata la munizione? Sì, ma siccome non voglio prendermi in giro, non volevo sostituirlo, ma perché non sapevo che aveva preso la munizione, la munizione l'ha presa, a partita finita. Io sono venuto dentro, quando stavamo entrando, a un minuto da rientrare, Poluzzi mi dice, mister dove lo mettiamo Berardinelli? Per quale motivo? Guarda che è stato munito, doccia, perché puoi rischiare, evidentemente ti ha dato una munizione perché tu hai protestato, perché io sono venuto, la partita via era finita, sì mister gli ho tirato la palla così, un po' così, e quindi ho messo subito Fior di Lino, che anche lui non stava bene, quindi ha stretto i denti, adesso è là che ci mette il ghiaccio, perché aveva un indurimento al flessore destro mi sembra, e quindi ha stretto i denti, ed è stato bravissimo secondo me nei calci piazzati. O Dogo non ha fatto bene? No, o Dogo sono i crampi, perché io gli ho chiesto dieci minuti prima, o Dogo come siamo messi? Lui mi ha detto, mister c'è ancora dieci minuti, e poi ha avuto i crampi e l'ho tolto. In più mi era rimasto solo uno slot, e non potevo rischiare più di questo, grazie. Mister ha detto Celli, starà fuori un po'. Eh, parecchio. Per quello che lui mi ha detto, ha sentito tipo pungere con un'ago, e quindi vuol dire che è uno stiramento. Quando senti pungere, vuol dire che è uno stiramento. Adesso ci scherziamo, glielo ho detto. Così impari a portare quattro volte la palla dritta per dritta per 30 metri. Poi hai detto prima, quando ci sentiamo bravi, questo magari era l'unico problema, forse nel primo tempo, dove avete dominato, e poi è quasi paradosso che lì non siete andati su 2-0. No, è paradosso, ma infatti è quello che a me mi dispiaceva per questi ragazzi, che dobbiamo chiudere la partita il primo tempo, cioè bisognava chiudere 2-2-3-0 le possibilità, abbiamo fatto quasi 20 tiri verso la porta del Perugia, quindi devi essere un po' più preciso, devi avere più cattiveria. Anche il secondo tempo, pronti via, o rovere, devi passare davanti al difensore, nella palla che ha messo De Col, e lì devi fare gol, perché poi succede una mischia, come poteva succedere anche a loro, e potevano dare in vantaggio loro. Quando domini così le partite devi chiudere il primo tempo. Però poi stiamo guardando il pelo nell'uovo, e il pelo nell'uovo. Buonasera mister. Buonasera. Volevo chiederti se era questa la partita che ti aspettavi. Sicuramente sì. Io sapevo che la mia squadra, alla terza partita, poche squadre riescono a reggere il ritmo nostro. Poche squadre. Infatti ti ho detto, io l'ho detto anche loro, se ci fossero altri tre turni infrasettimanali, noi alla terza, alla seconda, non avremmo problemi. Forse alla prima, perché faccio dei danni io quando faccio l'allenamento, così. Seconda, terza, che devi solo gestire, devi fare solo questioni tattiche. Mercoledì, siamo arrivati giovedì. Oggi sembravamo che noi tre partite non le avevamo fatte. Quindi vuol dire che abbiamo anche una buona condizione atletica, più che altro anche mentale. Domani sera guarderai la partita leggera? Domani sera? Vado dalla mia nipotina piccola, che ha due mesi e mezzo, quindi mi godo a lei, e poi vedrò il generale più avanti. Adesso siamo terzi. Speravo, dico la verità, di essere secondi per un giorno così, perché questi ragazzi sono il popolo dell'Istituto Salomeno. però il campionato si decide le ultime cinque partite. Ok? No, non lo so per la Serie A. Non lo so. Noi sicuramente manca poco la salvezza. Grazie. Grazie, mister. Ciao, ciao. Ciao, ciao.